Buongiorno Sofia e Len, come state? Oggi vi presentiamo dieci tipi di ginnasti. La prima ginnasta è la pelosa. La fignona. La scantafatiche. Ti vuoi muovere? Mi devi fare tre cinque diagonali. Eh? Dai, sbrigati. Non fermai niente. La lamentona. La trava è storta. Ma che tipo di magnesia è questa? L'ulteggio è troppo lontano. Il suo corpo libero è durissimo. Cioè, le luci in questa palestra fanno schifo. La diva. Quanto sono brici. E la ginasta allenatrice. Guardate, qui devi vedere. Ma pieghi le gambe, sennò non ce le fai. Ma le braccia così, no? Cioè, strichi. Sai che devi fare così, no? L'ha presa bene? Ok, allora partiamo con dieci slanciola verticale. Ok, posso fare cento all'ora? No, dieci. E un po' di più? Va bene, basta, cambia. Ti faccio un'altra? Basta! Allora, adesso mi sta per favore. Una preparazione, clicca avanti e indietro. Ok, perfetto, basta. Ok, mi faccio la tracentata? No, va bene così. Ok. La guardami. Mi guardi? Me la puoi guardare? Me la guardi questa? Guardamela. Ok, stai guardando? Mi guardi? Mi guardi? Lassa il fomone. Mi fai una foto, per favore? Mi fai una foto, per favore? Sophie, mi fai una foto? L'infortunata cronica. Mi fa male la schiena oggi. Adesso questo dito minuscolo fa malissimo. Mi sa che è rotto. È rotto. La ridarola. Caciuffe. L'ha presa male? Se magnesia, non so che tipo di magnesia è, ma io non ci sto studiando ai paralleli. Ma lascia stare che questa magnesia è nell'occhio. Non ho neanche la forza per correre il bottiglio. Ma lascia stare che questa mattina io devo fare le scale da camera mia in cucina per fare collezione, sono già morto. Sì, ma come facciamo male? Ma guarda, non lo so. Eh. Non ho voglia oggi. Mio, chi lo dici? Oh, che ho fatto. Sono stanca. Non ho neanche pervenito stanotte. Ma lascia perdere, guarda. È qui tutta la mattina che vorrò tipo in televisione. Cioè, secondo te adesso voglio aggiorarmi. Mi fa male in tutto oggi. No, ma lascia perdere. Guarda, c'è un proletto del sedere che non mi sono. Provogare? Non ho neanche fatto gli esercizi. Non sono neanche pervenito. Ma lascia perdere che neanche mi sono fatto la cerezza. Ho le gambe dure. Adesso dobbiamo andare in corpo libero. Lascia perdere che c'ho un po' di mie sedere. Ciao Sofieland, vi voglio tantissimo bene. Spero che vi è piaciuto questo video. Sicuramente conoscete uno o più di queste ginaste. Commentate sotto se è vero. Se non avete ancora fatto il subscriber, siamo a 60.000 ragazze. Wow, subscribe adesso. Vi voglio bene. Al prossimo video. Io queste ginaste le ho allenate tutti. Ce le ho avute tutti e tutti i tipici ne sono altri. È tutto il body, lì, lì. Sì. Meno male. Ciao.